Allora, ciao chichi, ciao chichi, hola, dunque questo è un video molto breve che vi faccio perché innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per il sostegno che mi avete dato e per darvi appunto questa notizia perché chi non mi segue su Instagram magari non lo sa e siccome mi siete sempre state vicine mi sembra giusto dirvelo, ieri Argo se ne è andato senza soffrire quindi è la cosa essenziale, credevo di prenderla meglio, allora non l'ho presa malissimo proprio perché come vi avevo detto Cialin ma credevo di riuscire un po' a metabolizzare ma una botta atroce, non vorrò nessun altro cane perché si soffre troppo, cioè vabbè comunque la cosa è fresca, quindi innanzitutto grazie perché se ho messo la foto e ci sono mille i vostri commenti e quindi vi ringrazio davvero con tutto il cuore. Niente, ve lo volevo dire perché comunque ci siete sempre state, lui non entrerà più dalla porta e insomma è dura e non lo so se riuscirò a registrare perché di solito per il nervoso riesco a registrare proprio per evitare, capito, di impallarmi e poi sono stata al fine settimana a casa di Aline e sono tornata adesso a casa e non vederlo più dalla porta, insomma ci sono una serie di cose che mi hanno un po' destabilizzata e niente, mi sono messa in camera dalla mia mamma perché c'è di là Aline che dorme, era un video che volevo fare da sola, vabbè lui dorme e non sente però, e niente, stamattina sono stata al lavoro e niente, sì si deve andare avanti però la riga è dura, grazie del vostro sostegno perché mille messaggi, mille mail, grazie mi dispiace di non aver fatto promosse bocciate il mese di gennaio, sono stata molto, questo periodo, questo mese sono stata molto non dirigente, spero appunto di riuscire a febbraio a fare tutto, tanto devo fare il top 2015 così ci infilo tutto, vi volevo anche dirvi che ho un vlog da mettere, che è quello del fine settimana, è molto piccolo, non è grande però per l'appunto poi non l'ho finito perché, lo stesso giorno perché mi è stato detto di Argo dopo nemmeno due ore che vedrete la terza parte e l'ultima parte l'abbiamo fatta stamattina, io ho dei video da mettere che avevo fatto in precedenza che Argo c'era ancora, sono due make up e le terz tag, quindi li metterò, qualcuna di voi c'è, di solito succede quando metti un video e mi dici ma come perché sono stati fatti prima, quindi niente ve lo volevo dire così anche se non dovessi registrare metto quelli, niente bimbe io vi mando un grande bacio, grazie di esserci sempre, avrò una notizia da darvi ma comunque ve la darò più qua, io vi mando un grande bacio, siete il mio più grande sostegno, davvero, e Bubi comunque l'ha sentito il vostro affetto, sono sicura, e niente ciao tesori